Mister Torti oggi è una partita, possiamo dire, un'alterina di emozioni perché è stata una partita bella, godibile dagli spalti, Lanciano prima avanti, poi rimontato, poi successiva rimonta del Lanciano. L'avevate ripresa, poi cosa è successo? Ma bisogna dire che Lanciano nel primo tempo ha fatto molto meglio di noi, è passato in vantaggio e ha avuto anche la possibilità di chiudere la partita, non l'ha fatto, questo ha fatto sì che noi nel secondo tempo siamo rientrati in campo con un altro figlio diverso, abbiamo ribattato il risultato, abbiamo sfiorato in qualche occasione di poter fare il terzo gol e non ci siamo riusciti e lì secondo me è una partita, una squadra che vuole fare un camionato importante deve sapere gestire la palla, noi abbiamo fatto due errori in uscita, ci hanno pareggiato e fatto il terzo gol. Perché poi il quarto gol non conta più relativamente, però noi una squadra come la nostra non può commettere quelle situazioni che anche il primo tempo è successo, errori in uscita, i tecnici ha permesso a Lanciano che sulle ripartenze è fortissimo, perché è forte, perché c'è i giocatori che gioca in questa maniera qua e noi abbiamo permesso di farci il secondo e il terzo gol, questo è successo. In generale probabilmente Lanciano se l'avesse chiusa prima sarebbe stato un altro secondo tempo, però il capistrello ha dimostrato nonostante un primo tempo di sofferenza di esserci, quindi questa è una squadra che comunque può essere attaccata al treno di testa possiamo dirlo. Io penso di sì, noi stiamo alla ricerca anche di qualche giocatore perché è andato via di curso, ci si è fatto male Lombardi che per noi è un giocatore importante e stiamo alla ricerca di questi due sostituti per essere un attimino, rimanere competitivi e andarcela a giocare. Poi nel calcio sono gli episodi e tutte le cose che devono girare per il verso giusto, però noi stiamo facendo bene e vogliamo continuare a fare bene. Speriamo che in settimana arriva qualche elemento, quando meno per avere qualche alternativa in più. Io oggi avevo tutti i 2002-2003 in panchina, per cui una squadra che vuole ambire a programmi e progetti ambizioni deve avere una rossa un po' più numericamente valida.